Un buongiorno e un ben ritrovati cari telespedatori e telespedatrici con l'edizione del nostro telegiornale regionale delle 12 e 30. La Polizia di Stato di Pordenone ha portato alla luce una complessa truffa dei canili. Sotto accusa la struttura di Villotta di Chions con sede anche ad Arzene. Indagata la titolare settantenne che avrebbe sottratto all'adozione oltre 400 cani lucrando sulle diarie degli enti locali per centinaia di migliaia di euro. Un'operazione della squadra mobile della questura di Pordenone ha portato alla luce una serie di illeciti avvenuti nel canile di Villotta di Chions. Dopo ripetute segnalazioni partite anche dal sindaco di Valvasone Arzene, gli agenti pordenonesi su mandato della procura di Pordenone hanno ispezionato la sede legale del canile ad Arzene e quella operativa di Villotta. Durante i controlli degli scorsi giorni è emerso come la struttura sfruttasse gli animali d'affezione per garantirsi continuativamente per un lungo periodo introiti illeciti a danno di 58 comuni convenzionati tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto, 48 in provincia di Pordenone, 10 in provincia di Udine e Venezia attuando truffe sistematiche ai danni degli enti locali che rimborsavano le spese per il mantenimento degli animali in canile e la loro cura. Nell'ispezione sono stati trovati anche molti medicinali scaduti, fatti per i quali ora è indagata la titolare del canile attivo dal 1984 una settantenne di Arzene accusata di truffa ai danni dello Stato e peculato. Le indagini hanno evidenziato anche come gli animali venissero ricoverati senza l'attuazione delle procedure di riabilitazione previste e in più occasioni addirittura spostati dal canile di Villotta all'abitazione privata della proprietaria della struttura, sottraendo in questo modo gli animali ad ogni possibilità di adozione e in piena violazione delle normative sanitarie, fatti per i quali risulta tuttora pendente un provvedimento di diffida e ordine di sgombero esecutivo emesso dalla competente azienda sanitaria e mai ottemperato. Sfruttando l'elevatissimo numero di animali ricoverati, almeno 400 solamente negli ultimi due anni, l'indagata avrebbe incamerato un ingente guadagno illecito, quantificabile in svariate centinaia di migliaia di euro. L'attività di indagine, anche con l'ausilio di otto veterinari comportamentisti, ha messo in evidenza come la donna isolasse i cani in box singoli, per lo più senza nemmeno farli sgambare, affinché non sviluppassero socialità e condizioni di sviluppo idonee alla loro futura adozione, per assicurarsi così il mantenimento della diaria fatturata ai comuni affidatari. Oppure, in alcuni casi, collocava più esemplari di taglie diverse in aree comuni, lasciandoli di fatto allo stato selvatico in condizioni di branco per impedire che questi sviluppassero affezione per l'uomo. Una nuova scossa di terremoto questa mattina è stata registrata nelle Dolomiti Friulane. Dopo quella di 2,1 gradi di magnitudo della scala Richter, registrata ieri notte a Trasaghi, su un nuovo movimento tellurico di 2,2 gradi, è stato captato questa mattina alle 7.22, a 3 chilometri sud-est da Forni di sopra. Non si segnalano danni a cose o persone. Patrick, sequestrato e picchiato per farlo parlare di Regeni. Titola così l'articolo riportato oggi in prima pagina dal Corriere della Sera che indaga su possibili legami tra il sequestro e le torture subite da Patrick Zaki, studente e attivista egiziano di 27 anni, e la vicenda del ricercatore di Fiumicello. Nel servizio dell'inviato a Mansura, in Egitto, a Francesco Battistini, parla anche la mamma di Zaki, che si sofferma sul trattamento riservato al figlio degli agenti egiziani. Gli hanno sequestrato tutto, dice nell'intervista al Corsera. documenti, occhiali, vestiti, passaporto, telefonino, tesserino sanitario. L'hanno interrogato illegalmente per 30 ore. E poi si continua la mamma di Zaki. Gli hanno chiesto anche dei suoi legami con la famiglia di Giulio Regeni. Il giornalista poi chiede alla mamma di Patrick se il ragazzo conosca bene i parenti del ricercatore friulano. Dal 2016 di quel ragazzo italiano si parla su tutti i social media e anche Patrick conosceva il caso, se n'era interessato, risponde la donna. Il Corriere pubblica in prima pagina anche la foto di un murale scomparso a Roma, opera dell'artista di strada Laica. Ritrae Giulio Regeni mentre abbraccia Patrick Zicchi e con accanto la scritta in un fumetto stavolta andrà tutto bene. Per rispondere all'emergenza sanitaria che ha colpito la Cina e alle ripercussioni sul commercio internazionale che potrebbero essere pesantissime, un'industria a Pordenone ha istituito uno specifico gruppo di lavoro che si occuperà da un lato di individuare gli strumenti, gli ammortizzatori sociali più efficienti per assistere le imprese e dall'altro di raccogliere informazioni utili a proporre iniziative alle istituzioni. E sugli effetti dell'emergenza coronavirus interviene anche il presidente di Confindustria a Friuli Venezia Giulia Giuseppe Bono. L'attuale e delicata situazione internazionale aggravata dall'epidemia che sta sconvolgendo e oltre che la vita di migliaia di persone anche il trend economico di mercato mondiale, afferma Bono, non può non costituire il momento di preoccupazione imponendo a tutti uno sforzo alto ad uscire da uno stato di conflittualità permanente. Questi sono momenti in cui il Paese tutto deve impegnarsi non per il mantenimento di una situazione di precaria stabilità, osserva Bono, bensì per l'affermazione di quelle capacità programmatorie che hanno fatto sì che l'Italia superasse momenti altrettanto difficili procedendo lungo la strada della crescita del lavoro e dell'occupazione. Vini non dichiarati in un'azienda vitivinicola della zona del Cividalese emerso a seguito di un controllo eseguito dai carabinieri del NAS di Udine insieme all'Istituto Controllo Qualità Repressioni Frodi dell'Ufficio di Udine a seguito di un sopralluogo effettuato in azienda derivato da una discrasia rilevata a livello documentale gli uomini del Capitano Fabio Gentilini hanno rilevato la presenza di un vaso vinaio non dichiarato, i calcoli delle giacenze nelle cantine inoltre non collimavano con quanto riportato sui documenti dell'azienda. Circa 50 gli etoriti di vino non dichiarati è scattata così una maximulta di diverse migliaia di euro a carico del responsabile con diffida a regolarizzare immediatamente la documentazione pena il raddoppio della sanzione. E un grosso esemplare di Cigno è stato travolto e ucciso questa mattina intorno alle 9.30 lungo l'autostrada 4 poco dopo la Tisani in direzione Venezia è stato investito dal traffico veicolare nella parte della terza corsia dopo le segnalazioni prevenute dagli automobilisti agli agenti della Polizia a strada di Palmanova gli stessi hanno raggiunto il punto dell'impatto e hanno rimosso la carcassa. Luci a LED, rifacimento dei marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche sono solo alcuni degli interventi eseguiti di recente a Codroipo dall'amministrazione comunale per rendere più sicuro il transito dei pedoni. Nuovi interventi del capoluogo del Medio Friuli per la messa in sicurezza della viabilità e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Allora la viabilità di Codroipo ha avuto diversi interventi da parte dell'amministrazione comunale sotto l'aspetto della manutenzione generale quindi dalla messa in sicurezza, dalle strade, le asfaltature completamento di nuove illuminazioni o integrazione con nuove illuminazioni a LED per il risparmio energetico cosa importante per l'amministrazione comunale per l'abbattimento dei costi di gestione ma in particolare è innata una progettazione di carattere generale sotto l'aspetto della redazione del nuovo piano di avviabilità e del trasporto locale che è in fase di predisposizione dai professionisti incaricati ma in particolare anche lo studio e l'analizzazione di alcuni progetti preliminari per la soluzione di nodi piuttosto sensibili in quanto incroci pericolosi o piuttosto congestionati dal traffico per la soluzione dell'accesso a Codroipo sotto l'aspetto per quanto riguarda il comune a parte questi progetti generali ci sono in atto comunque nuovi investimenti di oltre 200 mila euro per la continuazione della manutenzione della viabilità stessa con le marciapiedi e oltre alla realizzazione del nuovo piano dell'abbattamento delle barriere architettoniche sarà un ulteriore tassello verso anche la fruibilità delle persone disabili e non solo di tutti i percorsi ciclopedonali all'interno della città e non solo Realizzata a metà del secolo scorso presenta oramai troppe criticità e rappresenta un pericolo per chi transita in strada Così Comune e Kafka hanno deciso di unire le forze e rifare integralmente un tratto fognario idrico nel centro del paese a San Vito di Fagagna Le opere prenderanno avvio a breve in via San Daniele Importante opera di messa in sicurezza della rete fognaria a San Vito di Fagagna L'intervento si è reso necessario a causa di diverse perdite e dell'impianto ormai obsoleto Il tutto in accordo con il consorzio acquedotto Friuli Centrale Troverà realizzazione un'importante opera naturalmente gestita dal CAF che riguarda la sostituzione della fognatura nel paese nel capoluogo a San Vito di Fagagna su via San Daniele è una fognatura che probabilmente è stata costruita negli anni 50 e verrà appunto rifatta perché essendo diciamo così vecchia appunto ha una serie di cedimenti che si ripetono almeno un paio di volte all'anno quindi ci sono anche delle criticità c'è anche una pericolosità per chi transita su questa arteria Contemporaneamente verrà sostituita anche la rete di distribuzione idrica quindi fognatura e acquedotto verranno rifatti per tutta la parte centrale di via San Daniele In occasione dei 500 anni dalla scomparsa del genio rinascimentale Leonardo da Vinci la Zero Orchestra ha omaggiato questo importante appuntamento Vediamo I 500 anni della morte di Leonardo da Vinci celebrati nel 2019 sono stati rievocati al Cinemateatro Mioto di Spilimbergo con una prestigiosa pellicola del cinema muto abbinata alla musica della Zero Orchestra si tratta del cineconcerto Genius, il Leonardo ritrovato il film muto, l'unico in realtà sopravvissuto realizzato nel 1919 per celebrare i 400 anni dalla scomparsa del genio da Vinci diretta a quattro mani dai registi Mario Corsi e Giulia Cassini Rizzotto la pellicola che era ritenuta scomparsa è stata casualmente ritrovata nel 1996 nei magazzini della Cineteca finlandese di Helsinki e grazie alla produzione storica della Cineteca Nazionale di Roma la sta ora riproponendo con l'originale partitura musicale Leonardo nei secoli composta per l'occasione dal veneziano Paolo Furlani con esecuzione dal vivo della Zero Orchestra dell'Accademia Musicale Naonis di Pordenone e dall'Associazione per la Musica e Danza Antica di Venezia Mario Corsi, sceneggiatore, regista, giornalista e commediografo che fra il 1917 ed il 1922 scrisse e diresse una ventina di film e Giulia Cassini Rizzotto una delle poche registi attive in Italia nel primo ventennio del secolo scorso con questa loro produzione consegnano la cittadina del mosaico nel circuito a eventi più prestigiosi della regione realizzati da Piero Colussi socio fondatore delle giornate del cinema muto sodalizio da sempre dedito alla riscoperta del cinema muto e delle origini del cinema centro espressioni cinematografiche e Cineteca del Friuli con il sostegno di Regione, Fondazione Friuli e Comune di Pordenone e Spilimbergo I tifosi dell'Udinese vogliono dare un nuovo segnale di vicinanza alla squadra per questo ci sono dati appuntamento per sabato prima della rifinitura al Bruseschi l'idea è quella di incoraggiare Gotti e i giocatori che secondo i supporter si stanno impegnando al massimo ma non riescono ad ottenere i risultati che meriterebbero i ragazzi della Curva hanno chiamato a raccolta i tifosi con un post sulla pagina Facebook della Curva Nord Udinese 1896 all'appuntamento di sabato ci saranno anche alcuni rappresentanti dell'AUC i tifosi del Verona intanto si preparano alla trasferta di domenica e arriveranno a Udine mascherati nessuna protesta o messaggio da lanciare semplicemente per festeggiare il carnevale visto il periodo carnevalesco infatti il tifo organizzato giallo-blu ha invitato i tifosi a recarsi allo stadio Friuli vestiti a tema con il claim tutti a Udine, tutti in maschera bene, con questa notizia si chiude il nostro telegiornale non mi resta che ringraziarvi per la vostra sempre fedele cortese attenzione il nostro Campigotto è pronto a pigiare il bottoncino che lancia la sigla c'è la pubblicità e poi a voi la linea non mi resta che augurarvi un buon appetito se dovete pranzare arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti